Stiamo tumulando i loculi in un cantiere tra casseformi, attrezzatura di impresa e aree recintate. L'atto d'accusa è di Giovanni Quarantiello, consigliere comunale di minoranza a Benevento e A del Paradossale e vede nel mirino l'amministrazione comunale sannita per l'ultimo lotto da oltre 350 loculi che dovevano essere ultimati già da due anni e invece siamo ancora qui a parlarne, dice l'opposizione. Il consigliere è anche il primo firmatario di una richiesta di chiarimenti che approderà giovedì in consiglio comunale. Abbiamo chiesto all'assessore Lepore di fare chiarezza, da quanto ho potuto constatare, ha detto ad otto pagine, è che ci sono lavori ancora in corso, senza pavimentazione, con casseformi e attrezzature dell'impresa all'opera. Ma nonostante tutto, in quei loculi stiamo tumulando lo stesso, mi pare una cosa alquanto paradossale. Quarantiello non manca di sottolineare anche gli altri due lotti dell'intervento di allargamento per ulteriori 6-700 loculi, ma per i quali è ancora tutto fermo. Non solo perplessità sui lavori a farsi, ma anche su quelli ultimati. È impensabile, riprende, che nel 2015 le canaline dei cavi elettrici per le lampade votive siano esterne alla struttura. Di questo e altro se ne discuterà dunque nella prossima seduta del parlamentino di Benevento. Più in generale vorremmo anche capire che fine ha fatto l'annunciato progetto di ampliamento del cimitero. In giunta è stato dato l'ok al preliminare, ma dell'appalto in concessione non c'è ancora traccia. Conclude Quarantiello.